Allora, siamo nella camera di San Gabriele, con noi Maria Pina, che viene da Lauria. Sì, provincia di Potenza. Maria Pina, io l'ho conosciuta perché qualche tempo fa ha acquistato una statua di San Gabriele, ma c'è un motivo particolare. Lei San Gabriele lo ha sognato. Sì. Ce lo racconti questo sogno? Sì, dunque, è successo sei anni fa, precisamente il 24 agosto, quindi ho fatto da poco anche l'anniversario. Io stavo uscendo da un periodo molto particolare, mio figlio non era stato bene, quindi ero un po' depressa, stavo male psicologicamente. Trovavo rifugio solamente nella preghiera, però io pregavo sempre la Madonnina, perché per me la Madonnina è stata la mia migliore amica, perché io sono stata una giovane infelice. All'età di 12 anni ho tentato il suicidio. Da allora mi sono affidata a lei come unica amica e questo episodio ha fatto sì che io pregassi sempre per i giovani, nonostante fosse pure io una bambina a 12 anni, perché volevo che i giovani non avessero tutti i problemi e le difficoltà che avevo io e quindi da lì sempre le mie preghiere. Poi sono diventata una donna, ho avuto i miei figli e quella notte che mio figlio non stette bene, io come a mio solito pregai la Madonnina, ma ero disperata, quindi piangevo, piansi per due ore di fila. E disse, testuali parole, disse, Madonnina mia stasera veglia sui miei figli e su tutti i giovani del mondo, fa che non si perdino. Era un sabato sera, quindi sappiamo, durante la notte feci questo sogno, che io e mio figlio e la fidanzata eravamo usciti, però io mi ero persa e quindi non riuscivo proprio a ritrovare la strada e il telefonino si era scaricato e quindi non sapevo. Davanti a me vedevo solamente delle strutture di cemento bianco, non vedevo delle case, erano... Dopo tanti giri mi ritrovo davanti a una chiesa. Io guardo questa chiesa nei minimi particolari, perché volevo capire dove mi trovavo in quel momento, però, disse io, io non conosco questa chiesa, dove sono? Una voce mi dice, sei davanti alla chiesa di San Gabriele. Mi sveglio e mi sveglio con la sensazione di aver... Cioè, la cosa era appena successa, quindi io ricordo tutto nei minimi particolari e dico, ma chi è questo santo? Io non lo conosco, non ho idea. Allora digito San Gabriele e mi esce scritto appunto San Gabriele della Dolorata. Mio figlio era stato male proprio il giorno che noi, nella mia contrada, festeggiamo la Madonna della Dolorata, un altro particolare. Protettore dei giovani. Quando leggo Protettore dei giovani, mi metto a piangere, perché dico, non può essere una coincidenza che io prego per i giovani, sogno questo santo che io non conosco, che vengo a sapere che è Protettore dei giovani. Quindi arriva mio figlio, intanto, e mi trova tutto emozionato e dico, Pierluigi, tu che sei bravo con il telefono, vedi se in qualche parte del mondo c'è una chiesa dedicata a questo santo, perché io ho sognato una chiesa. Mio figlio non parlò, mi diede solamente il telefono e io ho pianto per un mese intero, perché quando ho visto l'immagine identica a quello che io avevo sognato, e beh, ha detto qua c'è qualcosa sotto, infatti poi sono andata dal mio parco, da Don Vincenzo, è rimasto anche lui sorpresa e mi ha detto, Maria Pina, dilla questa storia, perché tu, è come se avessi avuto una visione, perché già è bello sognare la Madonna, un santo che uno conosce, ma tu hai sognato un santo che non ne sapevi l'esistenza e quindi è una cosa bellissima. Da allora ho cominciato a organizzare i vari pellegrinaggi per farlo conoscere. Però ho deciso poi di donare la statua, non per questo sogno fatto, ma perché mio figlio, sempre Pierluigi, poi l'anno dopo, l'anno successivo, non è stato bene, è stato ricoverato un mese e mezzo, essendo militare, Arcelio, che davanti a Arcelio c'era la chiesa dei passionisti, la prima cosa che ho visto, perché aveva avuto una febbre alta, 40, non passava, quindi lui aveva paura che veniva poi, avrebbe avuto delle ripercussioni anche sul suo, diciamo, lavoro. Invece, grazie a Dio, è rientrato in caserma con l'idoneità tanto attesa che il 27 febbraio, allora ho detto, come tu sei stato ricoverato un mese e mezzo, mi rientri in caserma il 27 febbraio. Dice, ma che vuoi, che San Gabriele venga da te, ti venga a dire piacere, San Gabriele, è stato forte, è stato bellissimo, e allora ho detto, basta semplicemente parlarne, adesso è il momento di fare qualcosa, quindi ho deciso di donare la statua e adesso lì nella nostra parrocchia, e piano piano impareranno a conoscerlo e ad amarlo come lo amo io, che tanto io lo dico, se conosci San Gabriele non puoi fare a meno di innamorarti di lui. E questo è il mio amore, la mia storia con San Gabriele. Per te, oggi, San Gabriele, chi è o cosa ti suggerisce? San Gabriele per me è tutto, San Gabriele è gioia, io cerco la gioia in ogni cosa, è una mia peculiarità, diciamo, non è una cosa che forse ci accomuna questa cosa con San Gabriele, io in ogni cosa devo trovare la gioia, la gioia però soprattutto mi piacerebbe donarla agli altri, anche semplicemente con un sorriso, poter aiutare gli altri mi dà una gioia, quelle poche volte che sono riuscita ad aiutare qualche persona. Io mi sono commossa io, non la persona a cui forse ho aiutato, ma quando uno mi dice grazie mi metto a piangere, ecco, io sono così, non mi riesco a definire nemmeno io. Maria Pina, non vogliamo farti piangere. No, no, no. Però grazie della tua testimonianza. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei.